C'è un lavoro che noi facciamo che in particolare l'assessorato delle politiche sociali fa con le comunità. È un percorso di relazioni, prima di tutto, di conoscenza, perché la prima cosa, la cosa fondamentale è l'informazione e la conoscenza reciproca, perché senza quella non si riesce a costruire un rapporto. Altrimenti il rapporto è basato su luoghi comuni, su pregiudizi, su tutto quello che sappiamo. Allora, prima cosa è sapere, quindi conoscere bene, secondo modo costruire relazioni e quindi produrre comunità e coesioni. Allora, innanzitutto grazie Cristina, grazie a tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questa giornata. È un lavoro che nasce da qualche mese di dialogo, di discussione con voi e mi sembra un bellissimo risultato. Questo è il palazzo che ospita gli uffici nel settore cultura, quindi ospitarvi qui ci fa particolarmente piacere, perché, lo diceva prima il sindaco, bisogna incontrarsi, bisogna conoscersi, bisogna condividere i luoghi. Questo è il luogo di tutti disciplinini di Pavia e anche vostro, quindi ci fa molto piacere che siano qua. È chiaro che c'è un lavoro di relazione, di conoscenza, di interesse reciproco che è lungo, che non è semplice, che richiede l'impegno di tutti. Però questi percorsi per riuscire hanno anche bisogno di fiumenti, di comunità. Come amministrazione comunale, in particolare come politiche sociali, ma non solo, da qualche anno, non credo ormai tre anni almeno, stiamo lavorando molto con le associazioni, diverse associazioni che lavorano nei due campi, il Piazza Europa e il Via Dravante, con i referenti dei campi, con le mediatrici culturali che partecipavano alle attività, con Giorgio, proprio per... abbiamo, diciamo, formulato questo piano locale, piano di azione locale. Il piano di azione locale è fondamentalmente l'insieme di obiettivi che abbiamo condiviso, che spaziano appunto le iniziative come queste, che mirano a far conoscere e a superare i preventivi nella comunità, ma che hanno anche degli aspetti anche più profondi, come il tema importante dell'istruzione, del lavoro, dell'abitazione, e quindi stiamo affrontando tutti questi temi. Scetina Scetina Grazie a tutti.